Esserci per cambiare questo lo slogan scelto e lanciato in occasione dell'Assemblea Congressuale Provinciale della CISL di Pescara che si è tenuta a Montesilvano. Alla presenza dei vertici interregionali di Abruzzo e Molise del sindacato, il segretario provinciale Franco Pescara ha lanciato le proposte per un cambiamento che deve coinvolgere tutti gli attori in campo, ovvero istituzioni, sindacati e lavoratori. Un'Assemblea Congressuale ogni quattro anni nella CISL si cambiano le cariche, è un atto di democrazia che ripetiamo da anni e anni e anni, quindi il nostro slogan Esserci per cambiare è dovuto al fatto che vogliamo essere protagonisti del cambiamento che c'è in atto, chiaramente però non da soli, noi vogliamo sederci assieme alle istituzioni, alle controparti datoriali affinché assieme possiamo trovare una sintesi e dare delle risposte a chi noi rappresentiamo, i lavoratori e i pensionati. Il segretario CISL di Pescara ha auspicato anche un cambio di passo per un rilancio occupazionale ed economico sul territorio. Rispetto al 2019 e al 2020 abbiamo perso circa 1.500 occupati, appunto per questo c'è bisogno di un rilancio, c'è bisogno delle politiche attive e non solo delle politiche passive. Quello che chiediamo per questa cosa alle controparti datoriali di sederci assieme per le politiche attive perché noi con le parti datoriali ci sediamo solo quando ci sono le politiche passive, cioè le mobilità e i licenziamenti. Sediamoci prima e magari assieme possiamo cercare di trovare le soluzioni preventivamente e non disastri dopo. Ci sono una miriade di tipi di contratti che si possono fare, apprendistato, bisogna utilizzarli tutti, però bisogna sempre poi traguardarli al rilancio del turismo per esempio perché il turismo porta occupazione, il turismo anche nel settore alimentare può dare un rilancio ma se noi abbiamo i problemi soltanto per arrivare in Abruzzo così pesanti con gode, gode, gode quindi questo è un problema. Bisogna investire per i trasporti perché anche il discorso della Roma Pescara può portare ulteriore occupazione qui da noi. Sono cose che bisogna fare e bisogna fare in fretta perché se restiamo fermi probabilmente il declino sarà ancora più forte. Grazie a tutti.